Marescià, marescià, posso? Guardi un'altra. Marescià, stiamo in una situazione d'emergenza. Che è successo? Stanno arrivando i monzoni. E questa è l'emergenza? Sbatteteli dentro, non mi dà il fastidio, dai. Come sbatteteli dentro, marescià? I monzoni sono 20. Apputa, 20, 40, 60, sbatteteli dentro e non mi seccare. E questo, fai tutto la faccia. Emergenza. Emergenza.